L'arte in tutte le sue espressioni, in tutti i suoi linguaggi, alla casina del principe di Avellino sbarca la B-Food Gallery. Pittura, artigianato, design, nuovi concept del cibo. Avellino insomma laboratorio per tanti artisti non solo irpini ma che arriveranno anche dal Sagno e dal resto d'Italia. Ad aprire il cartellone di eventi organizzati dall'associazione Segni Inversi, Sara Cancellieri e i suoi umori di fondo. Il Vernissage sabato 18 aprile alle 19. La mostra sarà invece visitabile dal 19 aprile al 13 maggio. E poi si continua fino a novembre con Eliana Petrizi, Emiliano Stella, Walter Giovannello, Antonella Di Luca, Anita Trotta. Artisti già abbastanza conosciuti. Ritengo che sia importante dare questa continuità appunto all'iniziativa, che sia importante confrontarsi con esperienze artistiche provenienti da fuori province, che sia importante confrontarsi con esperienze artistiche che nel segno dell'arte contemporanea utilizzano vari materiali e vari tipi di discorsi.